Siamo a Santa Maria Novella una chiesa che ha più di 800 anni di storia e infatti da pochi giorni ormai abbiamo concluso il nostro giubileo perché sono stati 800 anni dall'arrivo dei primi 12 frati domenicani in Santa Maria Novella. San Domenico in Italia è poco conosciuto nasce in più o meno nel 1170 viene affidato a uno zio arciprete per la sua prima formazione poi entrerà nel capitolo della cattedrale di Osma della sua cattedrale e lì vivrà un'esperienza di fede e di comunità molto bella con il suo vescovo. Un vescovo che poi lo chiamerà e gli chiederà di accompagnarlo in un'ambasciata diplomatica in Danimarca e passando per il sud della Francia si accorgeranno di uno dei più grandi problemi che affliggeva la chiesa del loro tempo ovvero l'eresia catara. Un Vangelo predicato con la pompa, con la ricchezza dei legati papali non attirava e allora ebbero una grande intuizione, un'intuizione che a migliaia di chilometri di distanza ebbe pure un santo a cui siamo molto devoti, San Francesco d'Assisi. Uno nel sud della Francia, l'altro nel centro Italia comprendono che per predicare il Vangelo bisogna posare la povertà e a piedi predicheranno città dopo città il Vangelo. E quindi è così nasce l'Ordine Domenicano da un predicatore e dei giovani che rimangono affascinati. Ma la predicazione è innanzitutto dialogo, condivisione, trasmissione della misericordia di Dio. Ogni singola pietra qui in Santa Maria Novella parla di questa spiritualità. Ci aiuta a predicare con lo stesso entusiasmo di come ha predicato San Domenico ma in un modo diverso, in un modo nuovo, con mezzi sempre nuovi.